buongiorno spero riusciate a sentirmi bene anche questa mattina e benvenuti a tutti per questa seconda puntata del webinar tenuto dal nostro borsista ma non solo ormai formatore gar luca coviello che anche questa mattina ci porterà all'interno dei misteri di python in un modo approfondito nel nello special modo parlando di data science e vi ricordo come sempre i tanti appuntamenti con i webinar di gar la prossima settimana avremo vari appuntamenti appunto con ancora con luca coviello il 12 di maggio con il terzo appuntamento con questo webinar con questo corso di python per data science il 13 invece avremo il terzo ed ultimo webinar per il corso di comunicazione efficace online tenuto da leonora napolitano e invece poi la settimana successiva avremo ancora il webinar del nostro dipartimento di calcolo e storage distribuito e poi la settimana appunto successiva in particolare il 22 maggio inizierà il primo dei webinar che saranno ottenuti da simona venuti per quanto riguarda la sicurezza simona venuti è un membro del team del nostro gar cert questo per ricordarvi gli appuntamenti ma adesso passo subito la parola a luca per il webinar di oggi e buon ascolto e buona partecipazione a tutti buongiorno a tutti grazie di essere qua di nuovo grazie Gabriella per la presentazione e oggi a benvenuti a questa seconda lezione del relativa al corso di python e data science e oggi vedremo in particolare la manipolazione dei dati proveniti da un formato in csv quindi in formato tabellare e un po come possiamo esplorarlo per capire cosa troviamo dentro e quali sono le caratteristiche che ci possono più interessare comincio quindi vedendo lo schermo e condividendo subito un link di mentimeter o quindi se andate su mentimeter con il codice 63 28 49 ora scrivo tutto in chat questo è il link e il codice cominciò chiedendovi subito un feedback relativamente a il corso della prima volta quindi di martedì e anche a se siete riusciti a fare o no gli esercizi che che avevo lasciato per casa quindi rifar girare lo stesso notebook che avevamo visto relativamente ai dati di all'utilizzo di lumpy all'utilizzo di plot se siete riusciti a completarlo quello che non eravamo riusciti a fare durante il webinar quindi utilizzando in aggiunta la libreria chic it learn per il dataset per l'utilizzo di un dataset di prova e per stampare diciamo un dataset di prova per mostrarlo per carri grafici e una volta completata questa parte qua comunque che teniamo per la prima parte della lezione ci spostiamo sui data frame e sui dati in csv e non ho visto molta partecipazione sul forum del corso immagino che quindi non ci siano stati grossi problemi comunque vi ricordo che siete più che benvenuti a scrivere qualsiasi dubbio obbiate anche durante la lezione comunque rimane aperta una slide di menti sulla quale potete continuare a a scrivere le vostre domande vostri dubbi a cui poi io rispondo durante il corso allora partiamo subito con diciamo la prima slide di menti quindi relativamente al webinar di martedì quindi e a quello che siete riusciti a fare a casa potete segnare quanto siete in accordo in disaccordo con le seguenti affermazioni quindi avete effettivamente imparato qualcosa di nuovo se è organizzato diciamo secondo ciò che vi aspettavate ciò che vi siete voluto se era sempre se è stato semplice o meno da seguire considerate comunque sono concetti non banali per tutti quindi va bene insomma rispondete con con onestà che è sicuramente più utile e poi se avete o no se siete riusciti o no a completare gli esercizi che c'erano da fare che vedo che è quella la la risposta più con una media un po più bassa quindi visto che però non ho visto molte molte domande sul forum vi chiedo subito di in caso di segnalare se ci sono problemi con l'infrastruttura che dovete usare con il software che dovete utilizzare o se sono proprio concettuali o di riuscita in ogni caso vi ricordo che oltre a swan che potete utilizzare quindi che stamattina sembra funzionare di nuovo quindi abbiamo appunto swan con il software stack 96 python 3 che potete utilizzare per far partire un ambiente su cui far girare jupiter notebook potete anche installarlo in locale se avete bisogno scrivete sul forum che vi posso posso linkare alcune guide o abbiamo anche le possibilità in caso di google collab che è uno strumento fornito da google che è gratuito per l'utilizzo base che ne facciamo noi essenzialmente è sempre la stessa tecnologia quindi jupiter notebook però sono più collegati diciamo all'ambiente anche google drive quindi ci sono i potete salvare tutti i vostri notebook direttamente su google drive come dei file nelle vostre cartelle come state organizzate di solito allora visto che credo che le risposte più o meno ci siano tutte vi lascio aperta questa slide relativa a feedback e suggerimenti per la prossima settimana e per scusate per per il prossimo webinar insomma che che ho organizzato e vi chiedo appunto quindi di poi di sulla slide successiva formulare tutte le domande a quali possiamo posso rispondere durante questo webinar nel mentre apro la chat quindi io utilizzerò di nuovo l'ambiente locale di jupiter invece utilizzare suono collab perché essendo insomma un utente relativamente esperto mi trovo più comodo utilizzare direttamente la struttura del locale quindi quello che facciamo è far ripartire jupiter notebook o jupiter lab che sia il comando è jupiter notebook io utilizzo anche l'opzione no browser per evitare che mi apra automaticamente una finestra visto che tanto ho già il link aperto qui ok apro quindi il notebook che vi ho girato lo eseguiamo quindi giusto per fare un piccolo recap c'era si importavano le due librerie in un pai per l'utilizzo degli array e matplotlib per la creazione di grafici c'era una semplice costruzione di un array partendo da una lista di valori c'era una piccola comparazione tra le velocità che ci sono di tra utilizzare diciamo semplici operazioni la somma quindi di elementi in una lista seppur relativamente grande che fossero di una lista o che fossero di un array ok mostravo alcune semplici statistiche come potevano essere calcolate molto semplicemente con delle funzioni tra le varie che ci mette a disposizione in un pai e l'introduzione agli array multidimensionali possono essere array diciamo array colonna possono essere matrici possono essere cubi per cubi o un numero arbitrario di dimensioni abbiamo visto come si può fare l'indexing con un pai lo slicing di indexing quindi ci si deve a particolari celle oppure a righe o a sottomatrici righe colonne sottomatrici operazioni tra gli array quindi le somme le moltiplicazioni ma anche la somma su assi quindi non la somma diciamo tra due array elemento per elemento ma anche la somma per esempio di tutti gli elementi sulle righe o di tutti gli elementi sulle colonne dopo di che c'era un piccola introduzione su matplotlib in cui mostravamo creavamo un nostro piccolo plot mostrando i primi dieci numeri da 0 a 9 e lo annotavamo cambiando diciamo il titolo e le label sugli assi a questo punto abbiamo mostrato anche insomma una parabola sono dei primi dieci numeri quindi da 0 a 9 a 0 a 81 mostravamo la curva e mostravamo anche i punti quindi con l'utilizzo del marker dello stile del marker quello che ci viene mostrato sono anche dei punti proprio in corrispondenza dei valori che abbiamo che sono valori interi oltre che la linea diciamo intercolata da matplotlib e ci avevamo fermati senza poter eseguire l'ultima parte del codice quindi relativa all'importare un dataset dalla libreria Shiki to Learn della quale in realtà per ora non ci facciamo ancora molto nel senso che ci mette a disposizione di strumenti molto potenti per fare modeling dei dati ma qua l'abbiamo utilizzato solo perché ci mette a disposizione anche dei dataset di esempio al suo interno mi fermo un secondo per controllare ci sono già domande da parte dell'audience non ce ne sono quindi proseguo con questa parte del notebook della settimana di martedì quindi abbiamo visto che possiamo importare una funzione chiamata l'odiris dalla libreria Shiki to Learn punto data sets quindi la importiamo e possiamo richiamare la funzione l'odiris che ci ritorna appunto un dataset quello che possiamo fare nel caso in cui ci fossero dubbi su cosa esattamente fa questa funzione comunque è come facevamo in Ipython con l'utilizzo del punto di domanda per ottenere la documentazione si può fare anche qua quindi utilizzando il nome della funzione punto di domanda Jupyter ci mostra la documentazione associata vediamo che di per sé ci ritorna questo qua è una funzione per caricare il data relativa a iris di classificazione quindi abbiamo visto che ci sono tre classi, 50 sample per classe un totale di 150 sample e una dimensionality di 4 lì ci sono 4 feature in particolare, leggendo ci sono tutti i dettagli, sono la larghezza e l'altezza di petali e sepali relativi a tre specie diverse della pianta iris quindi lo carichiamo e all'interno di iris.data abbiamo appunto questa matrice che vedete sono 4 perché sono le 4 feature e per un numero di sample che è di 150 quindi vediamo della shape infatti è 150 per 4 e allo stesso modo oltre a avere il target oltre a avere il campo data abbiamo anche il campo target il campo target relativo a iris è un array con valori che vanno da 0 a 2 e sono 50 per diciamo sono 50 0, 51 e 52 questo perché questi rappresentano la classe di appartenenza di ogni sample quindi sono ordinati per classe i 50 sample appartengono alla stessa classe, classe 0 le altre appartengono alla classe 1 e le altre appartengono alla classe 2 quello che possiamo fare a questo punto è anche cercare di capire che valori ci sono dentro queste feature giusto? dentro la larghezza e i valori di altezza e larghezza che abbiamo la prima cosa che ci viene in mente da fare quindi avendo visto le funzioni delle statistiche molto semplici che c'erano prima è quella di utilizzare la funzione mean e standard deviation per capire più o meno qual è la scala dei valori vediamo che mean ci ritorna un valore di 3.5 mentre la standard deviation è di circa 2 questo vuol dire che i valori più o meno vanno tra tra 1, 1 e mezzo fino a 5 e mezzo o 6 quello che possiamo diciamo la maggior parte quello che possiamo vedere è anche creare una media sugli assi cosa vuol dire creare una media su un asse? vuol dire prendere tutti gli elementi di quell'asse e considerarli per fare il carico della media dicendoli axis 0 ci ritornano 4 elementi 4 elementi perché facendo la media sull'asse 0 noi facciamo la media sull'asse 0 è quello della colonna che lavora su sui elementi di tutte le colonne ci ottiene la media di valore appunto delle colonne quindi di ogni feature quindi abbiamo altezza e larghezza dei petali e altezza e larghezza dei sepali vedete che l'altezza la lunghezza è più è maggiore della larghezza chiaramente essendo petali e che insomma c'è effettivamente una differenza nelle medie dei valori possiamo fare ancora di più possiamo mostrare un box plot un box plot è un per chi non lo sapesse è un modo di visualizzare una distribuzione invece che usando una gaussiana dimostrare insomma in maniera un po' più compatta in cui vediamo la linea arancione che rappresenta la mediana quindi non la media ma la mediana della nostra distribuzione quindi il valore che se ordinassimo tutti i valori si troverebbe nel mezzo vediamo diciamo nei box nel rettangolo più grande dove si trovano i percentili se non sbaglio sono il 25esimo il 75esimo percentile e nel resto vediamo e questi sarebbero i buffi del box plot insomma anche i whiskers in cui vediamo dove si poggia diciamo da 0 a 25% da 25% a 75% scusate da 50 a 75 e in aggiunta abbiamo in realtà ci possono anche utilizzare chiaramente la funzione possiamo utilizzare il punto di domanda per vedere cosa ci ritorna la documentazione vediamo che effettivamente i i whiskers fanno appunto questi sono calcolati si può vedere come funziona quindi la differenza tra Q3 e Q1 e i percentili 75esimo percentile e 75esimo percentile per calcolare le dimensioni quindi vediamo che la maggior parte dei dati si trova all'interno sia del box che dei whiskers poi successivamente e i puntini che vediamo sono diciamo quelli che vengono considerati come degli outlayer quindi un po' delle lunghezza larghezza lunghezza larghezza di petali e sepali e vediamo che le distribuzioni sono effettivamente molto diverse se noi guardiamo le due lunghezze vediamo che una valori arrivano diciamo intorno a 8 che credo siano millimetri no sono probabilmente centimetri scusate arrivano fino a 8 centimetri e mentre per i sepali ci sono valori anche molto più bassi qui il minimo è poco più di 4 qui il minimo è diciamo addirittura 1 e per le larghezze il discorso è lo stesso diciamo le distribuzioni sono abbastanza separate ok questo è un plot diciamo già abbastanza avanzato che ci permette di visualizzare delle feature con i loro valori e di metterle a confronto quello che possiamo anche fare però è mostrare utilizzando uno scatter plot quindi un plot per mostrare ogni dato come un punto con due dimensioni due assi mostrare per esempio la dimensione 0 e la dimensione 1 di ogni punto quindi sull'asse delle X ci mettiamo la lunghezza dei petali sull'asse Y la larghezza dei petali che vediamo che sono iris data di due punti tutti i sample virgola prima dimensione iris data due punti seconda dimensione indice 0 indice facendo eseguendo i plot soltanto con queste due con queste distruzioni otteniamo uno scatter plot quindi un puntino rappresenta un un sample quindi ci sono 150 punti chiaramente senza disegnare senza colorarli per qualcos'altro non si riesce a capire veramente cosa succede quindi cerchiamo di colorarli per il target ci rappresenta il colore iris.target rappresenta ecco l'array che abbiamo visto prima con dentro i valori tra 0 e 2 che matplotlib mappa automaticamente tutti i 0 a un colore tutti gli 1 a un altro colore e tutti i 2 ad un altro colore in questo modo ad ogni sample oltre a dare le coordinate quindi 150 coordinate di asse X e di asse Y andiamo anche a un colore quindi se noi li andiamo a colorare vediamo che otteniamo tre tre colori diversi per le classi vediamo che ce n'è una che non sappiamo se c'è la 0 la 1 la 2 chiaramente però ne abbiamo una che è completamente separata dalle altre diciamo vedete che ci possiamo tracciare dentro una retta che la separa dalle altre mentre le altre sono un po' più mescolate quello che fanno le restanti due linee di codice sono impostare dei colori diversi ok possono essere più più carini da vedere insomma anche più semplici per persone con con problemi di di visibilità di divisione dei colori quello che fa è prendere la libreria matplotlib la il sottomodulo cm sta per color map e prendere il set 1 uno dei vari set di colori che ci sono si può provare anche con il set 2 che è uno dei colori diversi sulla documentazione e viene dato all'argomento al parametro cmap che sta appunto per color map infine edge color uguale k sta a significare che il bordo dei punti che facciamo questo è uno scatterplot quindi possiamo impostare il colore del bordo ci mettiamo la k la k sta per black si riferisce all'ultima lettera della parola e quindi infatti il bordo e cambia assolutamente molto come si visualizza poi dal punto di vista visivo il plot il bordo diventa nero chiaramente utilizzando lo stesso identico codice ma cambiando gli indici delle feature possiamo anche plottare due diverse feature per esempio la terza e la quarta indici 2 e 3 che quindi si riferisce ai sepali vedete che qua ancora di più la prima classe i colori sono corrispondenti a prima quindi il rosso di prima e il rosso di adesso è completamente separata dalle altre quindi è una specie diciamo relativamente molto diversa rispetto alle altre le altre due sono un po' più simili vedete che utilizzando però i sepali sono diciamo molto più discostate c'è ancora qualche qualche dubbio magari su alcuni sample però in media sono abbastanza sono molto ben separate una cosa interessante che si può fare che vediamo con questa linea è la seguente se noi guardiamo iris target iris target non è nient'altro che un array come abbiamo già visto con 150 valori di 0 di 1 di 2 e noi possiamo selezionare solo possiamo diciamo opporre questa uguaglianza quindi iris target uguale a 0 per vedere dove in questo array i valori sono 0 eseguendo questa istruzione quello che otteniamo è un array di booleani in cui c'è true dove la condizione è soddisfatta quindi elemento per elemento viene valutata la condizione uguale a 0 l'elemento è uguale a 0 e dove invece c'è forse vuol dire che la condizione non è soddisfatta questa cosa perché è utile perché questa è una maschera che noi possiamo utilizzare per fare per selezionare alcuni valori lo scriviamo così mettiamo mask questa è una maschera che ci dice seleziona solo dove ci sono i true quindi se io eseguo l'operazione iris target quali elementi vuoi del target voglio quelli che mi dice la maschera la maschera è un vettore di booleani mi ritorna le posizioni dove c'è true quindi io facendo iris target di mask ottengo 00000 sono appunto perché la maschera è fatta da i valori le posizioni in cui il target è uguale a 0 se noi andiamo a vedere la shape questo vettore è 50 abbiamo selezionato 50 quello che possiamo anche fare è selezionare data di mask in questo caso abbiamo ottenuto un piccolo array punto shape sono sempre 50 elementi quindi possiamo lavorare classe per classe e a questo punto possiamo che decidere di fare uno scatter in cui in questo scatter ci andiamo a mettere iris data mask quindi provino gli elementi e come secondo indice le dico che voglio la dimensione 0 quindi rispetto a prima non sto prendendo tutti i dati ma sto prendendo solo dove c'è una condizione ben specifica quindi un sotto un subset un sotto insieme dei miei sample e lo prendo sia per la dimensione 0 che per la dimensione 1 ok facciamo per la 2 la 3 così il plot è quello confrontare più di c se noi mostriamo questo plot otteniamo la seguente la seguente illustrazione vedete che gli assi sono diciamo sono scalati per farci vedere bene tutti i punti che abbiamo in questo caso che però non è facilmente diciamo non è immediatamente comparabile con quello sopra per quanto sembra che questa nuvola di punti assomigli un po' a questa un po' più schiacciata quello che possiamo fare è guardare quali sono gli assi i limiti degli assi che sono da 0 a 2.5 e circa da potremmo dire 0 a 7 e impostarli qui plt.xlim limitiamo l'asse x a farlo andare da 0 a 7 e l'asse y quindi ylim facciamo andare da 0 a 3 mostriamo il plot vedete che è venuta fuori circa la nuvola che avevamo qua sappiamo che questa è la classe 0 infine quello che si può fare e andare a vedere cosa c'è dentro data dentro iris e oltre ai sample abbiamo target e abbiamo anche un altro array che è target names quindi possiamo fare iris di target names e questo è un array di tre elementi setosa versicolo rodoginica che sono le tre specie di iris che stiamo considerando quella 0 che è quella diciamo molto diversa dalle altre è appunto la setosa quindi potremmo trarre la conclusione che setosa è versicolor e virginica scusate setosa è molto diversa da versicolor e virginica versicolor e virginica sono molto più simili tra di loro per quanto presentino delle differenze quindi questo diciamo siamo riusciti a a capirlo semplicemente utilizzando delle visualizzazioni senza particolare matematica complessa per quanto abbiamo anche i tratti in ballo dei boxplot per visualizzare un po' cosa c'è nei valori di queste feature e questo diciamo è tutto a meno di domande per quanto riguarda la prima parte e la visualizzazione anche un matplot vedete che è molto molto diciamo diretto da utilizzare per fare uno scatterplot assolutamente poche linee quello che può richiedere un po' più di tempo sono dei plot più avanzati o comunque la personalizzazione dei plot e l'impostazione dei limiti delle label perché questo plot chiaramente senza un titolo senza delle label ci dice poco però mentre noi stiamo lavorando col dato sappiamo quello che stiamo facendo ok comincio a vedere delle domande quindi quindi vediamo come rispondere la prima nell'istruzione che tra poco copio così così si capisce meglio cosa indica il carattere underscore a sinistra dell'uguale quindi probabilmente mi avete visto scrivere underscore uguale box plot iris ok questa è un'ottima domanda il motivo per cui utilizzo questo underscore è che in python l'underscore sta a significare il risultato di un'operazione che non ci interessa quindi il fatto è che box plot lt box plot ci ritorna un dizionario di tutto ciò che ha disegnato i whiskers con una lista di tutte le linee che ha disegnato i caps con tutte le liste i boxes le medians e i flyers di tutto ciò che ha disegnato solo che siccome non sono interessato a vedere l'output qua lo devo salvare in una variabile altrimenti jupiter me lo salva direttamente la chiamo asd per il minuto così vedo direttamente solo il blot il motivo per cui metto l'underscore è per non salvare quel risultato da nessuna parte l'underscore è proprio utilizzato da python per rappresentare l'ultimo valore di ritorno e per ignorare i valori di ritorno che non sono utilizzati quindi questo è il motivo è una cosa che mi vedete scrivere spesso quando mi serve soltanto per tenere l'output più pulito è possibile riferirsi alle colonne di iris data per nome questa è un'ottima domanda anche perché introduce proprio il data frame che andiamo a vedere adesso e la risposta purtroppo è no non immediatamente perlomeno quello che si potrebbe fare è questo se noi sappiamo che vogliamo accedere a quelle di setosa ai sample diciamo ah no noi perché vogliamo accedere alle colonne no il modo di farlo sarebbe creare un array quindi per esempio feature names probabilmente ce la vediamo anche dentro in iris controllo c'è la descrizione c'è un feature names esatto quello che possiamo fare è dire ok io voglio accedere a questa feature qua sepa length cm l'unico modo di farlo è questo innanzitutto mi serve che questo sia un array oppure posso fare punto index di questo se ci ricordiamo sulle liste c'è la funzione index e ci ritorna qual è la qual è l'indice del valore che noi andiamo a cercare all'interno del dizionario per esempio utilizziamo petal length invece che sepa length petal length lo troviamo in posizione 2 in posizione 2 voglio dire che possiamo utilizzare questo come un unico indice di iris punto data due punti virgola perché seleziono tutte le righe e questa è la mia espressione per selezionare via nome vedete che non è particolarmente semplice e intuitiva conviene appunto sapere che iris feature names sono queste quattro sapere che la feature 0 è sepa length la feature 1 è sepa width la feature 2 è petal length la feature 3 petal width probabilmente io le ho scambiate mentre mi parlavo non cambia perché non abbiamo scritto alcune report sicuramente è una cosa che va assolutamente fatta anche questa quindi di guardare quali features sono rappresentative vedremo tra poco con i pandas datframe che è più comodo e più utile da questo punto di vista perché si può accedere per nome alle varie colonne o ai vari sample ok utilizzando swan è venuto fuori questo se mi è partito swan proviamo a vedere quindi all'interno di swan io creo una cartella e in questo momento creo un file python 3 io premendo python 3 mi si apre appunto un notebook nella domanda qui trovo scritto che vuole la c'è il tipo ai python quindi immagino che effettivamente sia venuto a fare un notebook questo notebook io scrivo la linea di python quindi per esempio file print hello port e per eseguirlo e vedere l'output ho due possibilità la prima è quella di andare sul tasto run che è questo insomma quello da videoregistratore potremmo definirlo e mi esegue la cella l'alternativa e vedo l'uno perché mi suggerisce che è stato eseguito con shift invio altrimenti maiusca enter shift enter chiamatelo come preferite è uno shortcut da tastiera per eseguire la cella se vedete per esempio for i in range faccio questo ciclo molto semplice ancora troppo veloce ok ancora troppo veloce vedete l'asterisco vuol dire che sta eseguendo la cella in questo momento sta eseguendo questa cella ci mette un po' di tempo quando finisce di eseguirlo compare il numero questo è tutto quindi shift enter o run qui sopra tenete anche conto che i Jupyter notebook lab quello che utilizzate i notebook insomma hanno il menu kernel in cui potete fare restart del kernel e clear all output quindi potete riavviare il kernel quindi tutte le variabili le perdete perdete tutto ciò che avete eseguito ma non il codice e potete pulire tutti gli output per avere insomma una versione pulita in alternativa potete anche fare restan e run quindi quando c'è qualcosa che non va potete riavviarlo da zero e eseguirlo tutto perfetto ok i prossimi notebook sono condivisi su collab o li digitiamo mentre seguendo il corso credo che non sono sicuro che su collab si possano visualizzare in tempo reale dei notebook quindi in realtà o potete digitarli voi oppure come finisce la lezione io vi do il notebook in versione pdf potete cercare di rieseguirlo di riutilizzarlo di riscriverlo per insomma capire bene quello che sta succedendo perché se chiediamo due output a python mi mostra solo l'ultimo esempio a range 10 b uguale a range 10 b python mostra solo a b e non a ok le quattro linee qui sarebbero quindi scritte così quindi per esempio a uguale a np a range 10 e stampiamo a e poi facciamo la stessa cosa con b e stampiamo io non scrivo scriviamo soltanto la prima parte lui ci mostra a facciamo questo lo cambiamo facciamo questo se io tolgo queste altre due righe e come a ho dovuto b mi stampa anche mi stampa solo b da 20 a 29 gli elementi il motivo per cui fa questo è che è che in realtà quello che ci mostra in output è solo l'ultimo output questo diciamo assomi molto ai linguaggi funzionali in un certo senso nel senso che l'ultimo valore è quello ritornato l'ultimo valore che c'è nella funzione o nella cella è quello ritornato quindi l'unica cosa che ci stampa è effettivamente l'ultimo valore per mostrarli entrambi dobbiamo chiaramente usare un print ma questo è vero anche in altri casi ad esempio se io avessi qua un'altra variabile c uguale 3 lui non mostrerebbe assolutamente nulla perché l'ultimo valore c uguale 3 non viene ritornato da nessuna parte cioè viene il valore 3 viene salvato all'interno della variabile c e quindi non c'è niente da stampare in quanto vedete che qua non stampa assolutamente nulla se io però aggiungo dei print a print b allora mi viene di mostra e da notare che posso metterli anche in qualsiasi punto e vi funziona perfetto allora ciò che faremo ora è spostarci invece su un'altra libreria quindi creo un nuovo notebook lo chiamerò pandas quello che possiamo fare quindi quello che faremo in questo notebook è navigare dei dati in formato csv caricarli dentro python utilizzando la libreria pandas e altre e investigare un po' fare dei plot fare dei summary delle colonne che abbiamo dentro per cercare di capire come importare dei dataset perché csv perché csv comma separated value quindi è un file di testo quindi leggibile anche diciamo a occhio senza bisogno di strumenti informatici che ci permette di rappresentare tabelle in forma testuale con tutte le colonne a volte vengono utilizzate le tabulazioni si chiamano anche tsv però il concetto è sempre lo stesso quindi ogni riga rappresenta una riga della tabella e ogni colonna ha una colonna le colonne sono separate dal punto di virgola o dalla virgola quindi la prima cosa che dobbiamo fare che io in realtà ho già fatto è installare pandas di nuovo se siete su conda se siete su ppm se siete su qualsiasi altra cosa il comando dovrebbe essere lo stesso per tutti gli altri pacchetti aggiungete un install pandas piccolo fila s finale ok ora io l'ho rilanciato ovviamente mi controlla mi fa un lock di tutte le dipendenze controlla che sia tutto posto però in realtà c'è quindi quello che poi posso fare è importare pandas e come importiamo non-py come np possiamo importare anche pandas come pd è diventato uno standard de facto si è ispirato chiaramente a non-py però visto che anche questa è una libreria che si usa tantissimo quando la si importa poi non si può farne a meno viene importata come pd per poterla utilizzare in maniera più semplice ora che dati andrò a visualizzare i dati che andrò a visualizzare li trovate sulla piattaforma del corso quindi dalla home del corso di python per data science potete andare in basso dove ci sono i materiali e nel modulo 2 c'è una cartella nella cartella che potete anche scaricare in toto trovate dentro alcuni csv addirittura un sqlite e un piccolo ritmi questi file sono stati presi da questo repositorio di github che ormai ha qualche anno ma e che è diciamo l'ultimo update di circa 3 anni fa che ha guadagnato relativamente molta popolarità 4500 star su github star su github e è stato diciamo forcato quindi è stato è stata creata una copia di altri utenti da circa da quasi 2000 persone quindi lo incollo all'interno di questo questa cella si chiama panda scurbook se lo cercate lo trovate senza nessun problema posso comunque incollare il link in chat e questo qua è dove trovate anche il codice diciamo a cui mi sono ispirato che poi vediamo insieme cerchiamo di di cogliere di cogliere cosa sta succedendo in ciascun punto ok quindi pandas dovrebbe essere stato installato a me appunto l'aveva già installato il comando di nuovo lo ripeto è ppmv se utilizzate ppmv se utilizzate conda e conda install pandas si porta dietro poche dipendenze relativamente si basa su non-py e su altre cose che però non-py avete già installato per la prima parte quindi a questo punto quello che vogliamo fare è cercare di capire cosa c'è nella cartella dei dati io dal terminale vado nella cartella data che contiene lo stesso che gli ha linkato Andrea in chat che trovate comunque sulle piattaforme del corso gara e quello che c'è dentro è un dato chiamato bikes.csv questo bikes.csv possiamo anche guardarlo da github c'è un piccolo ritmi ed è un dataset di quantità di ciclisti in un anno a Montreal e vedete che ci sono anche per altri anni quindi siete anche libri di scaricare le versioni per gli altri anni che trovate nel ritmi e il motivo è che insomma apparentemente io non l'ho scoperto leggendo qua a Montreal è una società piena di ciclisti e quindi hanno guardato diciamo le tratte le piste ciclabili più interessanti e hanno e contano diciamo dei modi di contare automaticamente quanti ciclisti ci sono e poi fanno delle statistiche sull'utilizzo tali statistiche sono anche interessanti quando applicate a per esempio concetti di share mobility quindi abbiamo diciamo le bici che ci sono in città che sono disponibili a chiunque con una tessera e quello che succede molto spesso è che alcuni nodi sono molto più visitati di altri oppure in alcuni momenti si utilizza soltanto una tratta diciamo dalla periferia verso il centro dal centro verso la periferia quindi quello che succede è che ogni notte le biciclette devono essere riportate per ribilanciare tutte le stazioni della città e quindi insomma questi tipi di dataset poi risultano anche molto interessanti per capire all'interno del concetto di smart city come una città si comporta come si evolve quando ha diciamo quando vengono utilizzati certi mezzi di trasporto quando altri quali sono le vie più più seguite le vie meno seguite le strade dove accadono più incidenti meno incidenti e tutta questa serie di concetti ok quindi quello che facciamo è andare a visualizzare cosa c'è dentro questo dataset quindi io dalla shell faccio rivedere utilizzo il comando less che semplicemente lo apre senza stamparlo direttamente mi mostra un po' del file che posso scrollare vediamo che c'è una intestazione qui sopra con dei caratteri un po' strani quindi ci sono questi E9 F4 poi vedremo meglio cos'è il dataset è in francese nel senso che le righe date è chiaramente in inglese però i nomi delle piste di Montreal sono in francese e quindi è per questo che questi caratteri ci stanno dando dei problemi nella visualizzazione non è in un TF8 per chi sa cosa vuol dire ma utilizzo un altro encoding dopo di che vediamo che è quindi date dei nomi di piste ciclabili che non pronuncerò perché per quanto io abbia stato il francese non penso di sapere più pronunciare questi nomi in maniera decente e vediamo che all'interno ci sono appunto tot valori all'interno di una riga quindi questa riga abbiamo 0101 2012 che quindi è la data abbiamo dei valori separati da punto e virgola vedete che qua in questo punto ci sono due punti e virgola scusate il gioco di parole perché non sono presenti i dati infatti la prima colonna qualche non saprei i dati non sono disponibili i dati in francese vuol dire dati e se i dati non disponibili quindi vedete che la prima colonna sono sempre due punti e virgola quindi ok teniamo traccia del fatto che ci sono dei missing value non so quali sia il motivo sarebbe da investigare il motivo per cui non ci sono dati ok quindi abbiamo essenzialmente una data e una quantità di ciclisti che passano su quella pista perfetto ora utilizzando la libreria di pandas proviamo a caricare i dati per caricare un csv pandas ci viene molto in aiuto ci viene molto ci mette a disposizione le funzioni ad alto livello molto molto interessanti rispetto alla lettura attraverso file stream normali di csv che comunque python mette a disposizione con il csv una funzione che noi gli diamo diciamo un file path quindi il percorso verso un file o anche altre cose che però non serve chiesto di qua vedere e possiamo specificare determinate altre cose quindi separatori che ci sono se c'è un delimitatore a cui fermarsi se c'è un header se c'è da saltare delle righe se vogliamo leggerlo in chunk quindi in pezzi se vogliamo avere vogliamo passare particolari colonne se c'è un encoding diverso tutte cose che adesso alcune andremo a vedere diciamo che è molto molto specifica per quasi qualsiasi problema voi possiate avere con questi tipi di file anche perché poi quello che succede è che spesso tutti utilizzano un po' la loro convenzione personale quindi a volte bisogna un po' adattarsi a quello che si trova e questo è uno di quei casi quindi read.csv leggiamo il file all'interno della cartella data bytes csv io ci provo python3 mi restituisce un errore mi dice che utf8 la codifica utf8 non riesce a decodificare un certo byte questo cosa vuol dire abbiamo visto benissimo prima che all'interno del terminale se noi andiamo a fare un less all'inizio neanche il terminale in grado di mostrarci questi caratteri questo perché utilizza una codifica diversa allora quello che facciamo è andare a modificare l'encoding e andiamo a specificare che non è un utf8 ma è in codifica latin1 ora il motivo per cui lo so è che l'ho trovato sul codice altrimenti uno dovrebbe un po' diciamo ispezionare altrimenti comunque provare latin1 è una delle più comuni quindi si può provare a utilizzare essendo comunque che utilizziamo un dataset che è scritto in lingua francese probabilmente essendo una lingua comunque neolatina è probabile di dover utilizzare una codifica latin1 ok vediamo un output vediamo una tabella pandas questa è una struttura data di pandas viene chiamato data frame poi vedremo meglio cosa significa e ci dice che ci sono 310 righe e una colonna ok 310 righe ci torna probabilmente dal terminale potremmo anche andare a vedere con vc quante linee sono sono 311 però c'è l'header cioè l'intestazione quindi in realtà sono 310 righe 310 righe e una colonna una colonna chiaramente non è corretto vediamo infatti che la colonna è tutto ciò che era il nostro header quello che vediamo che è messo all'interno di tutta una colonna il motivo è che forse qualcuno se ne è accorto prima scusate è che se noi andiamo a vedere cosa fa read csv read csv ci dice che il separatore che va a utilizzare e qua è un po' un gioco tra virgole e apici è una stringa quindi vedete gli apici e utilizza la virgola il carattere virgola come separatore non è il nostro caso in nostro caso il separatore abbiamo visto che è il punto e virgo andiamo semplicemente a specificare chi deve utilizzare il punto e virgo ok già compare in maniera più interessante 310 righe 10 colonne ok 10 colonne abbiamo tutte e 10 le tracce vedete che ne abbiamo due con 2ne e non dipnibili che sono brebuf e sonne ruben e appunto all'interno pandas ci ha messo dentro dei none 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 vuol dire not a number non ha trovato il numero ha trovato una colonna vuota ha messo dentro un missing value quindi a questo punto a questo punto possiamo per esempio salvare il risultato di read csv in una variabile chiamata df che sta per data frame e andiamo a vedere che cos'è df vedete che jupiter ce l'ho formata molto bene è molto semplice navigarlo abbiamo anche un po' di lighting per vedere i valori possiamo andare a vedere varie cose di questo innanzitutto vediamo che tipo è df df è un pandas core frame l'importante è un pandas data frame data frame sta per tabella diciamo in parole povere si rifà ai data frame dr quindi delle tabelle diciamo con un header e anche un indice diciamo verticale quindi possiamo accedere alla colonna 0 1 2 3 4 quello che possiamo anche guardare è per esempio accedere a una colonna specifica innanzitutto possiamo guardare la lista delle colonne df.columns per accedere ai file csv desuon dovete caricarli credo quindi potete andare usate questa piccola digressione che proprio non ci sia molto importante per tutti qui dentro dovrebbe esserci la possibilità di caricare o da qua o da cernbox credo che per esempio andando da cernbox si possano caricare i file da poi visualizzare lì quindi andando dentro su home project io per esempio ho di un webinar 1 anche se non è correttissimo qui dentro posso fare più upload upload e potete caricare per esempio file di dati io per esempio carico tutta la cartella la cartella non si può potete caricare un file e a questo punto c'è la rete dopodiché dovete guardare dovete cercare in che cartella siete dove sono probabilmente magari rispondo offline a questa domanda su come su dove trovare pandas data frame oppure mi mettete un errore un po' più un po' più specifico in chat così riesco a capire meglio df.colms quindi vediamo che c'è tutte le colonne che ci sono vediamo che sembra una lista ci sono delle parentesi quadre ha un dtype object questo dtype è una cosa che sembra di numpy ed è un indice effettivamente è un indice nel senso che possiamo accedere a queste cose dall'oggetto di pandas dicendo che voglio quella colonna lì quindi la domanda che si rifà quella di prima posso accedere alle dimensioni con il nome la risposta in questo caso è sì in questo caso qua appunto possiamo accedere possiamo selezionare per esempio la colonna 0 diciamo che si chiama date ok possiamo accedere a colonna 1 ed è barry1 colonna 2 e troviamo tutto quello che ci interessa per esempio prendiamo barry1 e quello che voglio fare è accedere a df di come stringa questa è una diciamo una sintassi simile a quella dei dizionari mi accede a tutta la colonna vi fa vedere l'indice lo stesso che avevamo sulla diciamo a sinistra della nostra tabella mi fa vedere i valori che ci sono dentro vedete 3583 3583 fino a 2247 310 valori non è cambiato mi fa vedere il dtype dtype in 64 ok ha capito che è un intero perfetto ora ci sorge spontaneo e la colonna che non ha valori che tipo ha andiamo a vedere cambio il nome copio in colore la colonna mi dice che è un float 64 perché è un float perché none è relativamente è un tipo di dato float è definito così in un paio infine andiamo a vedere date date è un tipo object ok object sta a significare che ha una stringa noi non vogliamo che sia una stringa ma vogliamo che sia una data perché con una data è facile fare poi dei conti relativamente alle date quello che vogliamo fare è quindi convertire questo date in una data pandas ci viene di nuovo in aiuto e possiamo specificare parse dates quindi un altro argomento di derivare che ci sono alcune date e è la colonna date vedete che ha cambiato l'output e ci fa vedere 2012 2 1 2012 3 1 e ci fa vedere questo tipo di output infatti df di date adesso è diventato un date time 64 un tipo di dati che c'è all'interno di pattern quando si lavora con le date è molto importante capire qual è il formato di data che si sta utilizzando il tipo di dato che si sta utilizzando il tipo di formato di data che si sta utilizzando perché ci sono due formati come sapete c'è il formato diciamo europeo e c'è il formato americano il formato americano ha il mese e l'anno e poi mese, giorno, anno mentre il formato europeo ha giorno, mese, anno in questo caso si vede abbastanza facilmente che siccome sembrano essere ordinate per giorno arriviamo al 31 1 quindi abbiamo giorno, mese quindi quello che bisogna specificare è che the first è true nel senso che il formato di di data che stiamo utilizzando ha come prima cosa il giorno diamo il giorno e il giorno ci ritorna adesso 2012 1 1 2012 1 2 adesso il formato della data è corretto andiamo a visualizzare qua prima avevamo 1 1 2 1 invece il secondo dovrebbe essere 1 del 2 1 del 2 ok adesso è corretto ora quello che possiamo fare è dire ok ma di questi numeri cosa ce ne facciamo come facciamo a vedere cosa stanno a significare cosa rappresentano se c'è un trend se non c'è un trend ricordate che visualizzare i dati è uno dei modi più semplici di capire cosa ci sia dentro allora possiamo selezionare una colonna possiamo selezionare berry1 che è la più semplice da scrivere ok ci vengono fuori dati ok vediamo che c'è un 2000 vediamo che c'è un 35 insomma valori diversi e possiamo mostrarlo punto plot senza utilizzare matplotlib senza utilizzare matplotlib possiamo scrivere direttamente plot da pandas e lui ci mostra un grafico lo eseguiamo perché è sicuramente interessante da vedere e ci mostra una serie chiaramente una serie temporale di qual è il volume di ciclisti all'interno di quella pista quello che fa se voi vedete che in output ci scrive un matplotlib infatti pandas al suo interno utilizza matplotlib per fare i block quindi effettivamente è una libreria che tornate a utilizzare anche se non è vero conoscere matplotlib è utile perché tutti i diciamo che pandas poi passa tutti gli argomenti per specificare cosa volete su un plot i colori i marker tutto quello che vi pare la dimensione della figura che è quello che sto per modificare ora a matplotlib quindi conosce il matplotlib infatti ora io a plot passo un argomento che è fig size che è figure size la dimensione della figura perché è un po' piccolo quindi vi dico che voglio una larghezza di 15 e un'altezza di 5 e lui mi mostra questa bellissima figura valori che vanno da 0 a 300 e qualcosa sono 310 e mi mostra sulla y i valori di berry 1 ok avere sull'asse delle x i valori da 0 a 300 non ci aiuta granché nel senso che si ok sono in 300 valori però sarebbe bello avere la data qua sotto e per quanto non sia mai facile lavorare diciamo lavorare in maniera diretta a quelle date pandas ci viene in aiuto quando vi ricordate prima parlavo di indice parlavo di questa colonna a sinistra che va da 0 a 310 che sono i nomi delle nostre lille dates date vado a specificare che caricando questo csv che di nuovo non è nient'altro che una tabellina in formato testuale dico che l'indice da utilizzare che è quello che voglio utilizzare per diciamo avere la chiave primaria della mia tabella potremmo dire così perché se ne intende di sql allora è la data che tra l'altro stiamo anche passando proprio come una data stiamo proprio convertendo in forma in tipo di dato date time 64 facendo così scompare la colonna date da qua e ce la troviamo a posto dell'indice ok vedete che è messa sotto perché appunto è tipo un indice verticale questo invece è un indice orizzontale se noi andiamo a selezionare la colonna adesso prima ci dava tutti i valori e a sinistra l'indice era da 0 a 310 ora quello che succede è che in realtà ci dà un valore corrispondente a una data e questo viene riflesso quando facciamo il plot quando facciamo il plot pandas ci mette direttamente i valori dei mesi i nomi dei mesi formato corto sull'asse delle x ci specifica anche che è una data perché sa che è una data a partire da gennaio 2012 gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio e non tanto sorprendentemente probabilmente tra gennaio e marzo nessuno va in bici quasi nessuno va in bici diciamo ci saranno al massimo ci sono dei picchi di quattro cinquecento persone che vanno perché probabilmente evidentemente fa troppo freddo sarebbe molto interessante incrociare un duck set di mete per vedere quali sono le temperature poi vedete che ci sono dei momenti in cui un trend diciamo che si rialza in giugno a luglio in agosto cala leggermente probabilmente molta gente in ferie ed è via durante l'estate settembre si ricomincia e riparte poi si fa sembra un po' più freddo quello che è sicuramente molto interessante è di vedere è che oltre a questo trend che possiamo visualizzare ci sono dei crolli negativi su giornate in cui probabilmente non si usa assolutamente la bici sarebbe carino capire se sono giorni della settimana che tipo di giornate sono se sono in comunità con specifiche per esempio qua crolla per un paio di giorni se c'è qualche ponte qualcosa del genere tutto questo visualizzando il dato ora faccio una seconda visualizzazione prima di guardare che domande ci sono e questa seconda visualizzazione ha una singola differenza non vado a specificare nessuna nessuna colonna prendo il mio dataset chiamo punto plot in particolare seleziono la dimensione perché posso fare così di più purtroppo a meno di un secondo che nascondo mi è stato chiesto la modifica di prendere più grande il browser automatico hide show the dock questo è quello che posso fare posso rimpicciolire leggermente se non mi è troppo piccolo per vedere cosa c'è sopra ok quello che posso fare è fare questo plot senza selezionare nessuna riga senza nessuna colonna quello che succede ti ricordo che quindi essenzialmente prendo ciascuna di queste colonne e faccio un plot faccio un plot sulla stessa diciamo canvas quello che vediamo che è molto interessante per come ce lo presenta Pandas è la cosa seguente lo ingannisco un po' ancora aumento l'altezza del plot quello che andiamo a vedere è che ci sono un colore diverso per ciascuna per ciascuna pista ciascuna traccia e sono una sopra l'altra un colore diverso ci mostra la leggenda ricompare la data sotto e nei primi mesi fino a metà marzo nessuno utilizza la bicicletta quasi nessuna parte per quanto si vede che ci sono alcune che sono più utilizzate di altre alcune sono proprio a zero altre invece sono almeno un po' utilizzate c'è un viola e il viola vediamo che è Rachel 1 o Rachel 1 che è probabilmente la più utilizzata seguita da l'azzurrina che è Barry 1 quella che avevamo stampato prima e in fondo abbiamo rosa che è Pierre Dubuis che è probabilmente quella assolutamente meno utilizzata se la gioca un po' col verde comunque che è invece Coaching Katrin quello che inoltre si può vedere è che questo trend è più o meno riflettuto riflesso su tutto l'anno su tutte le piste quindi cresce probabilmente cresce la temperatura tutti vanno più in bici più bello andare in bici e decresce verso l'autunno inoltre ci sono questi picchi negativi che sembrano essere presenti dappertutto si vede bene qua crescono tutti decrescono tutti crescono tutti decrescono tutti crescono tutti decrescono tutti questo è molto interessante investigare il perché è così cosa che probabilmente vedremo tra poco ok ora controllo se ci sono domande quali sono i propri contro di un ambiente rispetto ad altri sicuramente la comunità di utilizzo e Brew non Brew l'utilizzo per installare software in generale su Python su Mac ma non per installare pacchetti Python perché non penso che sia chiamato per quello e non penso che gli permetta quello quindi ho per esempio una versione di Python installata con Brew però poi installo con altre cose Pip è la versione diciamo che quello che si vede è Conda contro Pip di solito Pip ci permette di è la versione diciamo originale una delle prime di Python per installare pacchetti Conda non installa veramente pacchetti installa binari è un po' più fornito penso Conda nel senso che permette di installare non cose semplicemente Python ma anche cose più complesse Pipenv invece ci permette di installare utilizzando Pip per pacchetti Python secondo me i due principali che conosco io che utilizzo io sono Pipenv Conda Conda è diciamo system wide si può utilizzare per caricare un environment da qualunque punto del computer mentre Pipenv devo essere in una cartella e attivare quell'environment lì questo sia dei vantaggi degli svantaggi sicuramente Pipenv lo utilizzo in una cartella so che lo utilizzo solo lì non lo attivo in nessun altro caso Conda d'altra parte posso accedervi dappertutto quindi utilizzate quello che vi è più comodo essenzialmente secondo me questi sono i principali vantaggi e svantaggi come faccio a dire al notebook di mettere le parentesi quando uso completamente automatico ad esempio scrivo pd.re premo ctrl spazio scelgo con invio reddice sv ma vorrei pd reddice sv parentesi parentesi non so se esista un modo onestamente di fare questa cosa quindi purtroppo bisogna scriversi le parentesi da soli credo l'alternativa è cercare su google ok dopo aver letto il csv e averlo assegnato alla valere df dicendo df di 2 viene fuori un errore chi è error ho saltato un passaggio no non avete saltato un passaggio andiamo a vedere quando potrebbe venire fuori questo errore ok ricarico il mio data set df e lascio perdere la parte in cui creo l'indice con data quindi abbiamo 012 e mi viene scritto che facendo df di 2 giusto viene fuori un chi è error allora se io faccio df di 2 mi da chi è error perché non sa che cos'è il motivo è che non sta andando a prendere non sta utilizzando l'indice verticale ma sta utilizzando l'indice orizzontale le chiavi che si aspetta lì sono le colonne quindi il modo di accedere così con un valore qua direttamente è quello di metterci il nome della colonna o numero della colonna se sono dei numeri se si vuole accedere invece alle righe ok dato l'indice si utilizza punto lock punto lock 2 punto lock 2 ci restituisce proprio quello che è in seconda posizione ora mostro entrambe le cose così si vede bene abbiamo la riga 2 che è 2012 1.3 che è 2012 1.3 infatti barry 1 è 135 che è questo qua e ci mostra solo quella riga lì ok poi ci sono anche modi più più interessanti e più più avanzati di selezionare parti di data di data frame che forse vedremo se arriviamo però di base il motivo è quello cioè di f parentesi quadre si accede per colonna che di solito è quello che si fa più spesso per accedere per riga si utilizza appunto lock e parentesi quadre non tonde quindi stare per location se voglio accedere invece se noi avessimo aggiunto la parte di data index call date abbiamo la data qua punto lock 2 mi da un key error type error perché sta cercando di utilizzare un intero per selezionare un date time perché in questo caso di f ha come indice le date quello che posso fare è i lock 2 quindi seleziona su diciamo una base di indice come di range quindi il secondo elemento e allora mi compare la stessa così sono gli errori di pandas più comuni sono non riuscire a selezionare qualcosa nel modo giusto ed è una cosa che pian piano si impara è più secondo me è più un'arte che una scienza ok ci spostiamo ad un altro data set dopo che abbiamo visto questo e siamo riusciti a fare dei plot comunque interessanti quello dei complaint complaint data set ok complaint data set è all'interno di un altro file si chiama new york 311 service request 311 service request è molto più più consistente ora proviamo anche a caricarlo e contiene dentro le chiamate al numero 311 della città di new york city sono relative al 2013 sembra il 311 ho cercato un attimo cosa volesse dire sono praticamente dei servizi della municipalità che i cittadini possono richiedere adesso poi impareremo a conoscere un po' meglio cosa sono quindi proviamo a caricarlo pd.read.csv ormai abbiamo capito cartella data 311 service request provo a leggerlo vediamo cosa succede senza mettere nessun altro tipo di parangolo ok innanzitutto vedo una scritta rossa che poi adesso andremo a visualizzare vedo 100.000 righe un po' di più e 52 colonne ok non sembrano esserci problemi di separatori per quanto noi saremmo anche potuti andare a vedere qua abbiamo visto che il separatore è chiaramente la virgola ci sono alcuni missing values e quello che vediamo è che ci sono per esempio una chiave riferita quindi alla segnalazione al reclamo quando è stato creato quando è stato chiuso se è stato chiuso ci sono anche dei non che agenzia è stata chiamata se è la polizia o se sono altre il nome dell'agenzia quindi vedete questa è la sigla questo è il nome New York City Police Department questo qua il Department of Health and Mental Hygiene il tipo di complaint quindi noise commerciale noise veicolo quindi se c'è stato il rumore è gente che fa rumore in strada o se è un negozio o se è un veicolo che fa rumore o se c'è un parcheggio illegale o qualcosa del genere un determinato un determinato descriptor che viene affibbiato dove si trova il tipo di locazione lo zip code che è una specie di cap la strada una serie di altri campi che dipendono dal tipo di reclamo quindi non sono sempre presenti per esempio ferry direction la direzione del del traghetto chiaramente non c'è se c'è un rumore sul marciapiede latitude e longitude quindi dove sono riferiti che sono tutte e location che è un insieme dei due una insomma l'insieme dei due che è dove vengono la posizione dove è stato fatto il reclamo a cui a difetto ok il warning che ci dà Pandas mentre carica è un D type warning fa qualcosa di strano sui tipi la colonna 8 have mixed type quindi colonna 8 è intesa come indice quindi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 incident zip ha mixed types quindi vuol dire che ha dei tipi misti ora cerchiamo di capire cosa vuol dire specifica l'D type che vuol utilizzare andiamo a vedere cosa vuol dire vuol dire che se noi lo prendiamo innanzitutto salviamo questo dataset e lo chiamiamo complaints per differenziarci da prima se ce lo legge e ce lo mostra ok andiamo a vedere punto columns di 8 è chiaramente incident zip come avevo anticipato andiamo a vedere cos'è complaints di incident zip accediamo di nuovo come dizionario per il nome della colonna ok vediamo dei valori ci dice che è un D type object questo ci fa un po' strano almeno a me fa un po' strano perché in realtà vediamo che sono degli interi però object avevamo visto prima che era associato alle stream allora cosa facciamo chiamiamo una funzione di pandas che è drop duplicates una unique di sql fammi vedere tutti i valori ma non tutti 111.000 i valori fammi vedere non farmi delle ripetizioni guardiamo cosa c'è dentro 400 valori e sono questi qua ok pandas ce li mostra diciamo compressi noi invece vogliamo vederli tutti vediamo punto values punto values è una funzione in realtà un attributo che ci porta verso un array di NumPy vedete che abbiamo trovato un array di NumPy sorpresa le colonne di pandas non sono nient'altro che NumPyArray infatti pandas al suo interno utilizza c utilizza siton utilizza tutto ciò che gli serve per essere efficienti questo è uno dei motivi per cui si utilizza è estremamente efficiente poi col tempo sono anche riusciti a renderli ancora più efficienti in realtà con ulteriori librerie più avanzate ok allora vediamo ci sono dei numeri che non sono degli interi per quanto ci sembra solo degli interi non sono degli interi perché c'è un none ok nota number abbiamo visto che hanno dei float quindi traduce tutto in float comunque sono tutti punto zero quindi non ci importa andiamo in giù e vediamo che ci sono alcuni che sono string cioè alcuni sono memorizzati con gli apici anche anche perché vedete per esempio questo qua ha dentro un trattino per qualche motivo è chiaramente un formato di codice diverso e poi c'è un no clue del tipo non è stato specificato lo zip e quindi ci troviamo un tipo appunto un mix type che sono string e float diciamo che ci sarebbero dei modi di gestire questa cosa però adesso lo ignoriamo completamente perché non ci interessa più di tanto ok andiamo avanti e ora vediamo proviamo a esplorare un po' questo dataset e capire cosa c'è dentro guardiamo le colonne vediamo che per esempio c'è il complaint type che avevamo visto che era noise on the street o altre cose e abbiamo anche per esempio il brew il quartiere se vedo dove ok ci dice dove si trova diciamo qual è il quartiere in cui è stato effettuato da quale in cui è stato effettuato il ritrovo quindi prendiamo complaints ora mi scuso perché accelererò un po' visto che siamo verso la fine cercare di fare qualche plot un po' interessante comunque poi vi rimane la registrazione e se avete dubbi e spero li abbiate penso che accelererò un po' ne parliamo assieme sul forum quindi complaints selezioniamo due cose in questo caso lo scriviamo un po' alla volta abbiamo due due cose che vogliamo accedere faccio una lista di due colonne complaint type e per l'appunto brew queste sono le mie calls a cui voglio accedere ok come ci accedo complaints e invece di dargli una colonna gliene do due calls e mi esce un data frame vedete che è ancora un data frame con due colonne abbiamo noi street walk illegal parking e il quartiere dove è stato fatto chiaramente possiamo utilizzare un numero di colonne che vogliamo se noi vogliamo scrivere questo in un'unica in un'unica cella si scrive così cioè in un'unica riga scusate complaints di una lista come prima diciamo le parenthesi quadre per sostanza che mi fa il dizionario dammi entrambe queste colonne bisogna mettere un'altra lista ok a questo punto quello che possiamo è fare un value count di questo di questo di questo data frame cosa vuol dire il value count va a contare prendendo semplicemente un tipo però in questo caso prendendo semplicemente il complaint type vado a contare quanti ce ne sono invece che fare un drop duplicate come prima per avere semplicemente gli elementi presi una volta solo in questo caso li vado a contare quindi lui li raggruppa e li racconta quindi ci sono un sacco di chiamate relative a heating molte ma la metà rispetto a general construction in totale ci sono 165 tipi diversi di chiamate cioè una chiamata per snow per esempio una chiamata per qualcosa relativo ai raggi x probabilmente un ospedale o qualcosa del genere ok quello che vogliamo fare di nuovo è dire ok riusciamo a fare un plot di questa cosa e la risposta chiaramente è sì mi salvo questi complain counts in una variabile complain counts selezioniamo i primi 10 perché non vogliamo fare un plot con tutte 165 quindi andiamo quelli che ci sembrano un po' più importanti in questo caso complain counts non è un data frame infatti non ci compare bello visualizzato come le altre tabelle se noi ne vediamo del tipo è una serie una serie sta a significare una colonna data frame tabella serie colonna una sola colonna io posso fare lo slice sui valori posso prendere il primo posso prendere il nono posso prendere tutti posso prendere i primi 10 seleziono i primi 10 e dico che voglio fare un plot il plot che voglio fare è un bar plot gli voglio mostrare delle barre e aggiungiamo la fix size come dice prendo la mia serie seleziono le prime 10 righe accedo al modulo relativo ai plot e faccio un bar plot e il bar plot mi viene con e count heating general construction street light condition doff literature to request plumbing paint platter e il contage una riga di pandas con ok non banalissima da scrivere la prima volta però una volta che si prende un po' la mano non cambiano tanto tra i validati ciò che possiamo anche fare è una selezione diciamo di soltanto un tipo di complaint quindi per esempio quello che vogliamo fare è questo prendiamo complaints accediamo a complaint type scusate complain no ecco la maiuscola la tips sì e come facciamo prima con numpy facciamo questo questa uguaglianza con un particolare valore in questo caso prendiamo noise street sidework possiamo utilizzare quello che chiaramente ci interessa di più vedete che ci torna fuori di nuovo una specie di struttura come quella di prima in cui ci sono dei true e dei false c'è true dove effettivamente quella cosa succede e non c'è true dove non succede a questo punto possiamo determinare possiamo estrarre le righe solo quella qui vi è associato un complaint type di valore noise street sidework per fare questo selezioniamo questa qua diventa la nostra maschera per scriverla come la scrivevamo prima la mostriamo anche volendo questa maschera diventa complaints di mask dammi solo le righe in cui c'è true tac abbiamo rapidamente guardiamo location type street sidework street sidework street sidework dappertutto e scusate complaint type noise street sidework dappertutto abbiamo solo 1928 abbiamo selezionato tutti i complaints che hanno come complaint type questo valore qua si fa una maschera e si utilizza quella maschera di nuovo questa scrittura si può scrivere tutte in un corpo solo a volte non conviene mi rendo conto però io posso scrivere complaints di tutto questo questo diventa un indice diciamo seleziono solo dove quella cosa lì o quella cosa lì sembra quasi una query SQL per certi aspetti in ogni caso questa cosa qua io me la salvo in noise complaints la salvo in una nuova variabile così l'abbiamo salvata ok posso anche guardare un'altra cosa posso anche dire ok però io oltre che complaint type posso anche guardare il brew e per esempio prendere il valore di Brooklyn e dire dove è complaints è uguale a Brooklyn mi esce chiaramente un'altra maschera e questa la chiamiamo come is Brooklyn e se qualcuno ha già intuito dove voglio arrivare salvo anche l'altra maschera quella di prima se la trovo e la salvo come is noise ho due variabili is noise creo due maschere una mi dice se è una cosa di tipo noise e una mi dice se è di tipo Brooklyn sono quindi due colonne true false e queste cose qua io posso accedere a complaints di is noise and is Brooklyn e ottengo un numero di complaints che è 456 che sono sia dei noise street sidewalk e dei brew ah è qui in mezzo da qualche parte che è Brooklyn quindi ho selezionato due maschere e faccio una end ovvero dove valgono due condizioni la prima condizione è che il complaint type sia quello e la seconda condizione è che il boru sia Brooklyn in questo caso appunto seleziono dannogli una end di questo tipo quando dicevo che la maggior parte degli errori di pandas è riuscire a selezionare bene il dazio di pandas non stavo scherzando nel senso che scrive qualcosa del genere è relativamente avanzato bisogna stare un po' attenti però vedete che non è neanche estremamente complicato alla fin fine sembra rimane sempre il fatto che il python è diciamo si legge abbastanza fluentemente e a parte questo carattere un po' strano che comunque è una end non posso scrivere end purtroppo devo per forza utilizzare questo qua questo operatore però lo sto facendo è darmi complaint dove is noise e is Brooklyn è quasi più leggibile di SQL se qualcuno se non ve la prendete magari siete dei database administrati chiaramente SQL però ha molto più potenzialità qui stiamo lavorando su una singola tabella infine quello che voglio fare è fare un plot di quali sono i di quali sono i quartieri più che si lamentano di più che hanno fatto più segnalazioni per noise streetwalk indipendentemente dal quartiere quindi per ogni quartiere voglio vedere quanti l'hanno fatto per capire qual è quello che si lamenta di più quindi andiamo a prendere la nostra variabile noise complaints che sono 2000 e sono tutti complaints indipendenti dal brew che sono noise street sidewalk ok questi qua li andiamo a andiamo a fare andiamo a selezionare il quartiere se vi ricordate abbiamo la funzione value counts conta per ognuno dei valori quante volte compare vedete che sono pochi sono 6 righe Manhattan Brooklyn Bronx Queens Staten Island e unspecified ce n'è uno in cui non era specificato il quartiere in cui si trovava Manhattan ce ne sono 900 Staten Island ce ne sono 36 e tutti gli altri sono valori in mezzo ok questo ciò lo salviamo in noise complaints counts e la mostriamo quello che è interessante fare però vabbè quello che possiamo subito fare è un plot come abbiamo fatto prima bar facciamo un bar plot e vediamo tutti i nomi e quanti sono però chiaramente questa è una misura diciamo di quanti ne abbiamo trovati relativi a noise complaint a far bene bisognerebbe per esempio anche guardare quanti noise complaint ci sono sulla totalità dei complaints di quel buru quindi possiamo andare a fare a creare una variabile complaint counts in cui vogliamo contare quanti complaint ci sono per ogni buru e penso che a questo punto magari non viene subito scritto il primo colpo però uno si immagina di poter selezionare la colonna buru quindi quartiera e contare e fare il conteggio di tutto per ogni buru come abbiamo dato prima fare il conteggio di tutti cosa è cambiato da prima prima abbiamo preso i noise complaints quindi solo quelli relativi a chiamate relative a noise in questo caso invece riprendiamo tutti vediamo che in questo caso i buru clean da essere in testa i buru clean dove chiamano fanno più richieste andiamo a verificare adesso una divisione tra i noise complaints andiamo a effettuare questa divisione e complain counts moltiplichiamo anche per cento e otteniamo una percentuale vedete che anche questa istruzione è molto molto comoda una divisione di nuovo è elemento per elemento dove l'elemento è il nostro indice quindi prendo il bronx di uno e dell'altro e faccio la divisione prendo brooklyn di uno e dell'altro faccio la divisione moltiplico per cento per avere una percentuale vediamo che bronx chiama l'1,5% dei complaints del bronx sono relativi al noise il 3,78 3,8% invece di quelli di manattan sono il 3,8% dei complaints sono noise complaints a manattan quindi effettivamente in percentuale relativamente a quante complaints chiamano manattan è quella che si lamenta di più per il noise vedete che è un po' ribaltato abbiamo un po' visualizzato anche in maniera percentuale qual è effettivamente la percentuale possiamo anche plottare questo secondo questo graffo qua aggiungo delle parentesi così utilizzo lui faccio punto plot punto bar e voilà manattan si negava molti di più in percentuale di tutti i suoi complaints per il noise complaint rispetto a quanto male ci ha potuto sembrare prima ok manattan sembra molto più aggressiva contro il noise complaint anche qua sarebbe interessante andare a visualizzare il perché succede tutto questo quali sono le ragioni sociali geografiche no la differenza tra i quartieri tra le popolazioni tra tutto questo ok più tardi vi caricherò un notebook con delle altre righe che sono abbastanza interessanti e che si rifanno al datset delle bici e in cui si possono fare insomma dei conti anche relativi alle giornate quindi quello che dicevamo se vi ricordate perché alcuni giorni c'è meno e alcuni giorni c'è più ci sono più biciclettate potete utilizzare il notebook per vederlo e poi vi chiedo e vi consiglio molto calorosamente di ok abbiamo visto l'utilizzo di pandas abbiamo visto che si possono fare cose molto avanzate con poche righe quello che potete fare sicuramente è dire ho un mio dataset voglio farlo sul mio dataset oppure se non avete un dataset cercate un dataset cercate open data c'è ci sono vari siti c'è keggo c'è data world ci sono moltissimi siti su cui trovate dei dataset più o meno interessanti potete trovare stipendi case crimini tutto quello che vi interessa e potete analizzarli nel modo come volete e giocateci l'unico modo di imporare utilizzare queste librerie e di farci poi veramente qualcosa e di avere un valore aggiunto da questo corso è di giocarci di prendersi un po' di tempo di sbattere la testa contro tutte le schermate di errori che vengono sono più che disponibili a rispondere a qualsiasi domanda sul forum e poi ne parliamo e poi insomma si può anche rivedere qualcosa di interessante che fate nella prossima lezione ok so che è mezzogiorno ma prendo due minuti per rispondere alle due domande che ci sono esiste un modulo per la lettura di file xml si lxml3 se avete da vedere secondo me si possono leggere con pandas direttamente se mi fate questa domanda sul forum rispondo o mai mi prendo un attimo per cercare qualcosa e rispondo e potresti spiegare quando con panda una singola parentesi o doppia parentesi si certo la singola parentesi o doppia parentesi viene utilizzata così guardiamo i dati dei complaints vogliamo accedere a una colonna allora utilizzo una singola pagina e accedo per esempio a unique key prendo una singola colonna ma se invece io avessi voluto prendere più colonne quello che devo dargli è qui dentro che è voglio queste colonne lui si aspetta un elemento solo quindi in quanto elemento solo gli do una lista di cose unique key ho messo tutti questi spazi solo per chiarezza chiaramente non lo servono closed date per esempio for agency in questo caso selezionando due colonne gli do una lista di colonne che vorrei selezionare oh scusate le campane ok è arrivata qualche altra domanda quando cambio nel df la colonna indice devo essere certo che nella colonna i valori siano unici sì non credo che pandas non so bene cosa faccia onestamente perché non mi è mai capitato di trovare un'istruzione del genere sicuramente è una buona norma a farlo non so quale sia il suo comportamento si possono importare dati in formato json sì si può importare anche in formato json di nuovo anche perché uno dei modi di costruire data frame è proprio passargli un un dicionario che non è nient'altro che un json quindi sì potete utilizzare anche json si utilizza se non sbaglio probabilmente c'è un read json c'è un read quasi qualsiasi cosa se cercate la documentazione pandas read data avete visto che comunque c'era già io tools è sempre pandas questo è proprio la sua descrizione vedete che tutti i tipi di dati potete tirare dentro csv fixed width text file json html dalla click board potete tirare dentro che è molto comoda da excel da htf5 per chi lo avesse da stata da sas da altre cose da sql non so json ok sì qualcuno mi chiedeva prima xml esiste un read html e potete dire che in realtà sta utilizzando xml quindi sì si può fare anche quello perfetto allora io concludo qua e grazie dell'attenzione e ci risentiamo poi appunto sul forum e poi martedì la prossima lezione grazie 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 luca le campanelle la campana era come la campanella di scuola quindi è suonata e noi finiamo qui e l'appuntamento come diceva luca è per il prossimo webinar di python per data science ma anche per tutti gli altri appuntamenti per tutto vi rimando al nostro sito che è learning.gar.it dove trovate tutte le informazioni buona giornata a tutti che di l'ultimo che ha di